Auto Vittani a Castione Andevenno in via Rosette 1a www.autovittani.it Nella ricorrenza del centenario degli alpini un successo le tre giornate di istruzione a una novantina di alunni della scuola primaria di secondo grado di Valdidentro grazie alle penne nere di Semogo, Isolaccia, Premario, Pedenosso Quando i miei alpini invitano i ragazzi delle scuole per noi è la cosa più bella che possiamo fare perché sono loro il nostro futuro, sono a loro che noi ci rivolgiamo, sono a loro che vogliamo dare l'esempio di cosa vuol dire essere alpini di cosa vuol dire mettersi al servizio di chi ha bisogno questa manifestazione di oggi mi riempie il cuore e parlavo proprio prima con i capigruppi qua della Valdidentro la devo portare anche nelle altre zone della nostra valle Vogliamo poi insegnargli quelli che sono i valori degli alpini, cioè patria, tricolore e solidarietà e amicizia vera Sulla piana di Rasin, sotto le torri di Fraele, dai carabinieri forestali lezioni su sicurezza in montagna soccorso sulle piste da sci, misurazione del manto nevoso, redazione del bollettino meteo valanghe, ritorno di grandi carnivori sulle Alpi L'educazione ambientale sin dal corpo forestale dello Stato adesso forestali carabinieri è sempre stata importantissima per noi la prevenzione e poter fare delle lezioni ai ragazzi siamo sempre disponibili, siamo sempre sul pezzo e possiamo sempre dare ai ragazzi, alle nuove generazioni, possiamo sempre dare qualcosa che loro ricorderanno Molte domande curiose, divertimento ma anche presa di coscienza alle prove generali dello spegnimento di un fuoco con gli uomini dell'ancincendio boschivo o del montare una tenda con i volontari della protezione civile Queste scuole qua hanno capito cosa vuol dire il volontariato e diciamo che la nostra esperienza che abbiamo dato a loro le ho trovate interessate e hanno fatto parecchie domande perciò vuol dire che qua all'Alta Valle vedo che organizzano già tante cose però qua in Alta Valle è più sentito che magari in altre parti le scuole vedo che qua partecipano e sono proprio i ragazzi che chiedono, domandano L'Alta Valle è terreno fertile, gli alpini si sono fatti conoscere per quelli che sono operano in silenzio senza il bisogno di sentirsi dire grazie ma non potremmo farne a meno Ringraziamo i nostri docenti, il presidente Giambelli, Leoni, Mario Rumo, Pfeiffer e tutti perché anche loro ci hanno dato una mano veramente buona sono riusciti a trasmettere certi valori a questi ragazzi che spero se li portino avanti anche in futuro Gli alpini stanno finendo, noi speriamo che questi ragazzi che riescano a seguirci riusciti a farci capire e a indirizzarli verso di noi in questi gruppi E quando i giovani scoprono di avere nonni, zii, papà, alpini intendono cosa significhi meglio, pronti magari un giorno a fare la loro parte di impegno civile Ho apprezzato l'intervento perché ha fatto capire che si tratta di un'associazione che si sta rinnovando e il messaggio che è arrivato ai ragazzi è quello di un'associazione impegnata per il territorio e impegnata per costruire solidarietà tra le nostre genti ma anche tra i popoli tutti